in prima persona io direi che la parola chiave per raccontare questo disco e per raccontare questo periodo della mia vita è apertura o comunque una ricerca di apertura è un discorso che stiamo portando avanti col mio team su tanti livelli su tanti aspetti non è un caso il titolo in prima persona io vengo da un lavoro precedente dove era tutto molto filtrato da una mia passione che sono le citazioni oppure raccontare personaggi storici in questo caso ho deciso di metterli dietro mettere dietro la cultura mettere dietro il mio background mentre dietro anche tutta una serie di cose che faccio tutti i giorni come guardare film e cose i riferimenti culturali arrivano in una maniera più trasversale qui il protagonista la persona messa in primo piano appunto sono io e tante volte sicuramente io ho fatto tanti lavori in cui sono andato a raccontarmi perché la mia scrittura è sicuramente una scrittura fortemente introspettiva la differenza però credo sia dovuta al periodo cioè il miglioramento il fatto che io in questo momento mi trovi venendo da un periodo se vogliamo più difficile più complicato soprattutto dal punto di vista della tranquillità il fatto di aver lavorato tanto durante questo anno questo periodo tragico del lockdown per me non è stato un momento di stop è stato un momento di ricostruzione con il mio team e questa cosa questo lavoro mi ha dato una tranquillità umana che mi è sempre mancata che mi permettono che mi hanno permesso di fare il mio lavoro con più tranquillità io il mio lavoro il modo in cui intendo questo lavoro è da sempre fortemente identitario però quando sei molto preoccupato da tutto quello che è intorno diventa più facile soffermarsi un po sul nucleo che tutti conoscono quindi sull'olo lasciando giulio se vogliamo molto trascurato giulio sono la stessa persona io però faccio questa cosa da quando ho 13 anni e sono tutto qui dentro tutto quello che faccio tutto quello che guardo tutte le persone con cui parlo tutti i libri che leggo confluiscono nel mio lavoro che è la scrittura che per me è la cosa più importante e credo sia l'aspetto più riconoscibile del mio lavoro a 360 poi perché la scrittura mi interessa a 360 gradi comunque stavo dicendo apertura momento di maggiore tranquillità quindi anche la possibilità di guardarsi dentro con più coraggio e far venire per esempio fuori momenti negativi paura tristezza fino adesso tutte queste emozioni se voi andate a rivedere il mio lavoro venivano sempre filtrate dalla rabbia ed è abbastanza un meccanismo di giulio di lolone la vita di tutti i giorni quando paura quando sono spaventato specialmente nel mio lavoro ho sempre trovato la soluzione di arrabbiarmi arrabbiarmi nelle liriche anche arrabbiarmi nella vita e quando uno è arrabbiato è tutto un po più facile perché non ha paura di farsi male non gliene frega niente era la cosa che trovavo assolutamente affascinante di eminem cioè i don't give a fuck non non do un peso però che succede non ti non ti precludi tutta una serie di aspetti della tua personalità che non avevo mai raccontato fino ad ora io sono una persona ironica sono una persona che ha un interesse molto largo ha degli interessi molto larghi se vogliamo molto eclettici che vanno anche fuori da quella che è sempre stata la mia estetica per farlo partiamo da siamo partiti da un punto con il mio team che è la riconoscibilità della mia penna io crediamo diciamo nel bene e nel male che la mia scrittura la mia personalità artistica sia molto definita il lavoro quindi è stato andare come dicevo ad aprire prendere questa matrice che è chiara che è riconoscibile e andare a esplorare questo è il mio lavoro più vario dal punto di vista musicale basta guardare i featuring basta guardare i produttori c'è fish che mi ha accompagnato in questo disco come in tutta una parte precedente del percorso ma sono andato anche in tanti studi diversi a mettere in gioco a far vedere come lavoravo a far vedere come ragionavo e forse era una cosa che in parte alcune persone neanche credevano che mi appartenesse quando in realtà io sono una persona molto aperta ritorniamo al concetto di apertura e quindi in realtà per me è stato di grande soddisfazione confrontarmi con producer come i cosmophonics oppure lavorare in studio con gammon quindi è un'apertura verso la scena è un'apertura musicale dal punto di vista musicale senza dubbio il mio lavoro più variegato ed è un'apertura nei confronti del pubblico per i temi per l'apertura per il coraggio di raccontarsi in una maniera più matura direi che più che un cambiamento nella forma è un cambiamento nella sostanza prima parlavo di lavoro identitario io non riesco a scendere un lavoro dall'altro perché nella mia testa è un continuum la vita è un continuum di cercare di evolvermi cercare di migliorare e sicuramente senza l'analisi fatta sul lavoro di dogma non sarei arrivata a questo tipo di conclusioni c'è sicuramente tanto istinto ma c'è sicuramente tanta testa io credo però che ci sia anche un distanziamento da quel lavoro per quanto riguarda la volontà di raccontare se stesso prima di bobby fisher prima di johnstown e del reverendo jones e dei suoi vestiti sgargianti espormi espormi anche in quelle cose che prima avevo paura di dire di me essendo io molto istintivo questo è l'album in assoluto che ho fatto più ragionato più scritto riscritto corretto registrato e riregistrato c'è da dire però che c'è una canzone che ha iniziato un po un percorso anche culturale e ormai lo definirei anche un percorso affettivo perché volevo scrivere una canzone appunto sullo stare male e ho chiesto a mio padre come si chiamasse questo racconto di wallace di cui aveva parlato sulla depressione che il pianeta trillafon e da lì è un po iniziata questa giorni nella lettura sono sempre stato uno che veniva da una famiglia intellettuale ed era molto bravo a far credere che aveva letto i libri adesso sto cercando di passare dall'altra parte cioè i libri li leggo veramente e quindi leggere trillafon mi ha entusiasmato da lì sono passato a infinite geste sicuramente infinite geste come anche wallace ha accompagnato tutto il percorso di scrittura del disco tutto il concetto che si trova anche in brani più leggeri come coscienza sporca del realismo isterico ma tutto è partito dalla ricerca fatta per in terza persona che anche un brano molto personale che amo molto perché amo il ritornello di subito sono anche molto sono anche una persona molto oscura da questo punto di vista o sono molto ambizioso ho una visione di dove voglio arrivare che è molto alta e se da una parte sono molto contento di avere questa testa e questo cervello e non lo cambierei con nessun altro perché credo che mi consentirà di fare grandi cose dall'altra mi sento continuamente la brutta copia di me stesso quindi quando tu mi hai chiesto se ci sono dei demoni non superati e delle cose vanno assolutamente di pari passo con gli spunti con le scintille che mi permettono di scrivere delle cose belle scrivere delle cose taglienti è assolutamente parte di me ed è assolutamente il rovescio della medaglia e il negativo del lavoro identitario e di essere una persona che crede tantissimo in quello che fa e che subordina tutto quello che vive comprese le fidanzate basta pensare alla canzone con gammon a questo lavoro come una sorta di missione sono in una fase in cui mi trovo molto meglio a fare e a lavorare che ad ammettere come prima che quello che sto facendo è buono ecco però allo stesso modo ci credo eccolo vedi io io amo il cantautorato e io amo la scrittura 360 mi piacerebbe scrivere libri in futuro mi piacerebbe scrivere racconti brevi mi piacerebbe scrivere film sicuramente il mio modo di scrivere parte in quanto genesi dal freestyle dalla velocità mentale dalle punchline dall'essere taglienti tutto quello che sono andato a cercare dopo è scrittura è espressione dei sentimenti in una maniera più profonda io sono innamorato del cantautorato uno dei miei idoli assoluti è bob dylan e insomma mi fa molto piacere che dici questa cosa mi piacerebbe trovare un bilanciamento per cui è chiara la mia matrice culturale per quanto riguarda il rap ma allo stesso modo vorrei arrivare questo un percorso iniziato che devo portare avanti vorrei arrivare al punto dove le persone ascoltano e sono interessate a quello che dico e a quello che penso e che ho da dire indipendentemente dalle tendenze dalle correnti da tutta una serie di generi e sottogeneri e divisioni che lasciano abbastanza tempo che trovano e direi quello che fanno i cantautori quindi grazie grazie